è il giovane eduardo è il millino siamo arrivati a casa della famiglia mi lascio tutta al completo tutta al completo tutte le generazioni questa è l'ultima generazione è il giovane eduardo sei svegliato io nasci tutto che è già nato guarda una ripresa a favore di camera è nudo perché si scandalizza ci mettiamo il dito in tutta la sua forma come mamma l'ha fatta adesso si fa il bagno speriamo non arrugginisca è nuovo è nuovo è nuovo è ancora in garanzia attenzione sono lì sono lì sei pronto? si vai vieni si fa l'importante è che c'è si si c'è è un po' improvvisato ma c'è una zappolatina ehi schiubetta l'uomo l'uomo si si improvvisato si 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 un un po' di luce si accendi un po' di si 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 Grazie.